Le persone normali fanno challenge con impagno ai soldi Si ma noi siamo Crazy Foxy e quindi cosa c'è di meglio di una bella challenge a chi spende più soldi in 24 ore? Cosa Crazy sei impazzito? Ovvio che no ah dimenticavo Iscrivetevi al canale Non ci posso credere Ho vinto 100 euro alla lotteria Ma la lotteria le ho appena vinti Tanto non sarei mai più ricco di me 100 euro Mi ti pulisco il naso Il naso con 100 euro? Aspetta 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 Innanzitutto non mi piace per niente il tuo comportamento Ma per caso tu mi stai sfidando? Mi sembra di vedere questo Che tu? Vuoi sfidare me? Il king Il capo Vuoi sfidare te Io sono il king Il capo di peratore Peratore? E allora che ne pensi Di fare una challenge A chi spende più soldi in 24 ore? Ehm Non mi prenderò più io Cosa cosa? Cosa vuoi il corozzo di sfidare me a chi spende più soldi? E anche a di sfidare lo sfigato dei soldi Lo vedremo Lo vedremo Devo vincere io Ma cosa cazzo? Qualcuno ha parlato dei soldi? Dobbiamo fare una sfida a chi perde più soldi No 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 Io sono venuta qui per fare la giudice Ah la giudice Ne sei sicura che non vuoi partecipare? No assolutamente Ah ok va bene Non vuoi fare la giudice La giudice di questa challenge Va bene allora Ma ne sei sicura al 100%? 100% Ok è molto strano Va bene farai la giudice Ok Bene ragazzi inizia la sfida Avete 24 ore di tempo per regalare soldi Tu prendi partosa Avete capito? Sì signora poliziotta Al termine delle 24 ore dovete essere qui E dovrete spegnere tutti i soldi Così l'altro che perderà dovrà dare tutti i soldi Oh 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 Va bene va bene io ci sto 3 2 1 Via Oh 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 Un'idea geniale Qual è il miglior modo per perdere alcuni soldi Ovvio Facendo riscaricare E questo e questo altro e questo altro Via Chi si 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 Chiudiamo Scarichiamo Oh 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 Ho appena perso 200 euro Vabbè Dobbiamo procedere E devo vincere io questa sfida Io ho avuto un'idea più geniale di crazy Regalo Lo Soldi Sì E facciamo un simboglino nell'euro Appenderò questi 2.000 euro su di me E permetterò alla gente di staccarli Uno qui Uno qui E uno qui Sono pronto Scusi signora Vuole di soldi? Scusi signora Scusi signora Scusi signora Scusi signora Scusi signora No eh Soldi gratis Per chi vuole regalo soldi Soldi ma perché nessuno vuole i miei soldi Provo a spostarmi per là In questa strada sembrano tutti ricchi Scusa scusa Vuoi dei soldi? Sì mi devo comprare caracol Prendi quanti ne vuoi Ok sì Prendi tieni Quanti te ne servono Tutti Vai prendi pure È stato un vero affare Anche questa Oh quel bambino non mi ha lasciato neanche un euro Ragazzi Sono passati nelle sciare Eccomi E allora Siamo a metà sfida Bene 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 Quanto metà sfida? Chi inizia dei due eh? Sì sì Io ho regalato 500 euro Beh ecco Io ne ho Ne ho Tre abbuttati e regalati 550 Siamo quasi alla pari Bene 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 Allora Continua la sfida Iniziando da Adesso Aspettate Fai un attimo Appunto sì Noi facciamo veramente tantissime challenge Ma ora è arrivato il momento Di sfidare voi in una challenge Appunto vi sfiderete Nella prova di iscriverti in 5 secondi challenge Uno Due Tre Quattro Quattro C'è il quattro prima Eeeh Cinque 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 C'è il cinque prima Fateci sapere se l'avete vinto oppure persa nei commenti Nessuno E se ne si date In una nostra challenge Ci sono Ho deciso di fare una bella cosa Per spendere più soldi Posso andare a fare shopping Vediamo Cavolo oggi è il 2 giugno E la festa della repubblica Vabbè Farò shopping online Per prima cosa ordiniamo una bella playstation 4 Così aggiunge al carrello Dopodichè Ma Cosa potrei prendere Ci sono Le Airpods Sì Le cuffie Le cuffie Mi mancano effettivamente Le cuffie Prendiamo le Airpods Pro Voilà Anche queste aggiunte al carrello Poi cosa possiamo prendere Che ne so Oh Oh Sì 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 Un bel Macbook Ah Ci vuole proprio un bel computerino Sì 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 Questo qua è perfetto per me E procediamo Fatto Acquistato Ah ah Altri duemila dollari spesi Foxy Foxy non mi potrà battere Né ora Né mai Cavolo siamo veramente stanco Vediamo cosa c'è in tv Eh Eh Ok Oh Ok Ah sì Ciao a tutti concittadini dell'Italia Solo qui mi chiamo Foxy E oggi vi darò il numero della mia carta di credito Allora ve l'ho detto fate tutti gli acquisti che volete Ci sono dentro circa 5000 euro Allora 4166 Oh Eh Ma che ci fallo il tv 0010 4990 Ok Potete spegnere massimo Facciamo 20 euro per solo Ehi Foxy Ehi Foxy Ehi Crazy Allora sono passate 24 ore Sì E io sicuramente ho vinto questa siano E sai perché eh Perché Perché Mi sono rimasti per 96 centesimi Ho speso 1000 euro dei miei risparmi Io invece Crazy Mi rimangono 5 euro Ho vinto sì Eh ma aspetta un attimo Siamo diventati poveri E io ti devo pagare 5 euro E perché mi devo versare 5 euro Perché tu hai vinto quindi ti ho dato tutti i miei soldi Allora E chi mi ne dà in quelli che ho perso Io che ne ho persi mille scusa No 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 La challenge da questa è che se Chi vince dai soldi all'altro E quindi Ora non possiamo andare anche per metterci una cena fuori Hai vinto Ma se Ma anche Ho perso Beh sì Ma chi ha pensato a queste challenge E' una posizione Non è sempre whether Come si fa Chi fa defendi Dove sono tutti i miei soldi Scheppalo Che inizio Mi rita Mi rita Mi rita Ci rita Mi 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 rita Grazie a tutti